Grazie! Più l'altro! Andiamo, bombe! Non si capisce il nome, è il nome. E se è morto in giallo, eh? Colone! Nome! Luca! Ok. Inizia! Colore! Inizia! Quando vuoi! Colore! Inizia! Colore! Inizia! 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 Colore! 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 Inizia! Voi! 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 Quattro, padroni, si va di là! Voi! Voi! Colore! Luca! Voi! Voi! Colore! Voi! 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 Tre palloni! Voi! Colore! Voi! 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 Lo so che siamo a corto di fiato! Lo so! Lo dobbiamo avere per recupero! Colore! Voi! 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 Ultimo! Colore! Luca! Voi! 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 Voi!